Ritrovate ben ritrovati, buona domenica, mi raccomando se avete piacere, già lo sapete, iscrivete al mio canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate il vostro preziosissimo like, grazie! Allora, dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo parlare delle dichiarazioni rilasciate, non allunga, a mio modo di vedere, interessante intervista da Francesco Calvo nella giornata di ieri a Calcio Finanza, o meglio, un'intervista pubblicata ieri da Calcio Finanza, un sito che mi piace tantissimo, molto serio e che mi apre nuovi mondi in quanto di questo argomento non me ne intendo, e quindi credo che sia giusto poi cercare sempre di studiare, prepararsi, soprattutto poi quando ti trovi inevitabilmente ad affrontare determinate tematiche e vedi quella finanziaria, ormai il tifoso è esperto di tutto, campo, ambito commerciale, ambito finanziario e di conseguenza lo deve essere anche il cronista. Allora, ha fatto molto discutere, a mio modo di vedere, in maniera immotivata il passaggio di Calvo su Milano, per chi se lo fosse perso alla domanda quanto incide, non avere alle spalle la capitale economica del paese, ovvero Milano, Calvo inizia tutto uno spiegone molto interessante, e poi dice, ogni tanto sogno di essere a Milano come società a livello commerciale, ride, nota del redattore, ma ci sono già due squadre e non ci sarebbe spazio, detto questo siamo orgogliosi di poter rappresentare Torino nel mondo, una città a cui siamo storicamente molto legati e che anche i nostri tifosi italiani e internazionali considerano casa, una città alla quale Juventus apporta valore in termini di autorità e in termini economici, visto l'impatto che ogni partita della Juventus ha sul territorio. Quel passaggio lì, ogni tanto sogno di essere a Milano, seppur in termini commerciali, seppur ridendo, sicuramente non è uscito a modo e ha fatto molto discutere, anche perché Calcio e Finanza ha rivisto quella precisa risposta, noi non abbiamo un video, ci dobbiamo fidare del testuale e siccome Calcio e Finanza è un sito molto serio, ci fidiamo totalmente. E la parola sogno, sognare di essere a Milano stona, anche perché giustamente poi il tifoso associa la Juventus a quello che è, a Torino, è andare oltre di pensiero e rischia di essere poi un campo minato. Partiamo col dire una cosa oggettiva che ha spiegato anche lo stesso Calvo, quando dice che il nostro team commerciale è stabilmente il capoluogo Lombardo. E io aggiungo che Milano è la nostra New York, Milano è il cuore pulsante del nostro mercato, in primis quello finanziario, e quindi di conseguenza avere degli uffici a Milano, credo che sia l'ABC, no? Per incontrare persone, per sviluppare progetti, per sondare, per annusare, insomma, io credo che ormai tutti i club di serie A abbiano ufficio a Milano, tutti. Ricordo che anche il Crotone, quando era in serie A, si appoggiava a Milano, proprio perché strategicamente non puoi non esserci. Quindi, Calvo ha semplicemente sottolineato la realtà dei fatti, ribadisco, la parola sogno poi ha fatto cadere tutto il concetto che era molto interessante, perché tra l'altro mi sembra che il tifoso juventino, in questo periodo storico, voglia creare casi anche là dove non c'è motivo che esista. Questo ce lo dobbiamo dire, perché io credo che in questa fase il tifoso juventino sia diviso praticamente su tutto, sul tema Allegri, sul tema Calciatori, sul tema Dirigenti. E questo poi riflette anche sulla percezione che diamo a livello di piazza e a livello di società, perché io, di tutta l'intervista rilasciata da Calvo a Calcio e Finanza, sottolineo tre o quattro passaggi che mi interessano molto, dal mio sponsor, dal fatto se essere quotato in borsa possa non essere un problema, esplorare nuovi mondi, come andare a Hong Kong e il brand Juventus in espansione internazionale. Però, tutto ciò, poi, io non credo che qualcuno neanche abbia avuto la pazienza e la bontà di leggere tutta l'intervista, che, tra l'altro, è gratis, ma si punta il dito, si punta il dito su quella frase ogni tanto, sogno di essere a Milano come società a livello commerciale, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché tutto questo? Dobbiamo cercare anche noi di fare uno sforzo e, alle volte, di non decontestualizzare. Ma io parlo anche da cronista, perché magari, alle volte, cerchiamo il titolo-effetto, c'è una piccola frasetta, decontestualizziamo, fa effetto, perché riesci ad ottenere interazioni, like e quant'altro, ma vai a sminuire anche, poi, la bontà della stessa intervista di chi l'ha creata e chi dà risposte. Però, purtroppo, ormai è così. Tra l'altro, anche il fatto, no, di capire quali potrebbero essere i nuovi canali per cercare di aumentare i ricavi. Insomma, io credo che tutta l'intervista di Calvo sia molto interessante, ed è un peccato che poi la si abbini esclusivamente per quel passaggio, che è stato infelice, sì, perché Calvo, da uomo di marketing e comunicazione, a mio modo di vedere, avrebbe dovuto spiegare lo stesso concetto, ma con parole differenti, perché poi, ormai, ti ritrovi nella gogna mediatica, nella gogna dei social, che vanno a gettare 9.000 battute di intervista, o quelle che sono, e si concentrano esclusivamente su quelle paroline lì. Quindi, vabbè, poi, evidentemente, no, funziona così. Tra l'altro, un altro tema che mi interessa è capire come, da appassionato da Juventus, possa riuscire a monetizzare anche i contenuti, perché se parliamo di Juventus Creator Lab, parliamo di un gruppo di lavoro che funziona alla perfezione, che sta portando davvero contenuti di altissima qualità. L'altro giorno ho visto tutta la cena con protagonisti, Gianluca Pessotto, Paolo Montero, Marchi Giuliano e Ciro Ferrara, che poi, ovviamente, entrava nel prodotto su Paolo Montero, e lo trovo un lavoro straordinario. E quando Calvo dice che oggi la monetizzazione è quasi pari a zero, bisogna anche cercare di capire, no? Cosa intenda, e soprattutto quale possa essere una visione redditizia, nel lungo termine. Ci sono tante cose interessanti di questa intervista, anche il passaggio su proprio capire nel concreto, la Juventus è molto amata, ma anche molto odiata, e sia un problema da questo punto di vista tra il responsore. Calvo ha detto che il nome Juventus rappresenta molto più di un vantaggio che uno svantaggio, e che non vede grandi problemi aziende che hanno paura di legarsi alla Juventus, pensando alle conseguenze legate agli altri tifosi. Cioè, io trovo che sentir parlare un professionista serio, rispettato molto, non solo dal sistema Calcio Italia, ma anche all'estero, è molto interessante leggere determinate dinamiche, ma no, noi ci mettiamo lì e buttiamo solo l'occhio su quel passaggio. Infelice, eh, lo ribadisco, perché poi non voglio difendere, non lavoro la Juventus, e quindi non avrei neanche motivo per farlo. Ma andiamo anche un pochettino oltre, o no?